Per il settimo anno consecutivo Bitonto è città dei cortili aperti, seconda dopo Lecce come numero di edizione in Puglia e quest'anno prima in Italia con un numero di dimore aperte. Questo è un risultato che ci rende orgogliosi perché racconta di una città generosa, disposta ad aprire tutte le bellezze che possiede, sia pubbliche che private, per offrire il godimento dei suoi stessi cittadini, dei turisti e dei visitatori. Come al solito 800 ciceroni studenti che raccontano la storia e la bellezza della città, che diventeranno fra una settimana centinaia della bellezza, insomma è un evento importante per la nostra città, devo dire anche per l'intera Puglia ed è come dicevi tu un evento di apertura non solo delle manifestazioni di maggio, la prossima settimana ci sarà la festa patronale fra due corteo storico ma anche dell'inizio dell'estate, quindi della città dei festival, degli eventi di prossimità. Dalla proclamazione culturale che negli ultimi anni ha fatto di Bitonto una città, insomma, punto di riferimento nella Puglia. Sono stati più di 50 gli immobili pubblici e privati tra palazzi storici, chiese, chiostre, cortili e giardini che si sono spalancati dinanzi agli occhi di più di 40.000 visitatori. Anche quest'anno, infatti, Bitonto ha fatto segnare il primato italiano come la città che ha aperto più siti. Tra le particolarità della settima edizione, i giardini e l'antica cantina del Conte Rogadeo, dove oggi si trova la biblioteca comunale. Curiosi e turisti sono stati guidati da 800 studenti, ciceroni volontari, preparati da 14 docenti. Ci aiuta a promuovere la città, appassionarci per la cultura, per l'arte. C'è un'esperienza veramente bella perché ci aiuta a vedere lo stupore della gente. È venuta molta gente qui a trovarci al palazzo Silo Sersale e ci siamo molto attaccati alla cultura della nostra città. Abbiamo scoperto molti valori che questa ha avuto in passato e ci ha fatto molto piacere notare l'interesse da parte della gente, le domande che ci sono state poste e a cui noi abbiamo risposto con molto entusiasmo. Non sono mancati i turisti d'ogni dove, ma anche bitontini particolarmente innamorati della propria città. Abbiamo tanto da offrire e magari un'occasione è un po' troppo poco per mostrare quello che comunque abbiamo, però bisogna iniziare comunque da questo. Tra l'altro ho visto che c'è maggiore affluenza quest'anno, quindi questa cosa mi rende orgogliosa. Animazioni, canti, cori e attività collaterali alla manifestazione hanno animato vicoli e palazzi con un occhio particolare alla storia. E alle prossime attività proposte dal ricco calendario culturale cittadino. Il centro Moart continua ad animare questo vicolo del centro storico? Eh beh sì, hanno scomodato persino me, Gian Battista dello Iacono, Abate, per dare lustro a questa città e ricordare anche i tristi eventi della battaglia del 1734. Vedo che qui c'è qualcuno che ha portato degli artisti di vario genere. Abbiamo pittori bitontini, artisti foggiani, cosentini, quindi non sto ad elengarli tutti perché sono parecchi. C'è poesia, c'è la musica con il gruppo bitontino degli allegri cantori. Abbiamo tanta gente che passa di qui a vedere questa mostra e approfittando dei cortili aperti che sono in corso qui a Bitonto. Una manifestazione veramente lodevole per il comune. Grazie a tutti.